Inchiesta a Liguria, l'ex presidente Giovanni Toti patteggia con la procura due anni e un mese. A Porto-Venere si sono concluse le celebrazioni per San Venerio, dialoghi su adozione e scuola, un convegno per accogliere a scuola storie differenti, inaugurata oggi a Lerici, Mitiliade, tre giorni di tradizioni gastronomiche dei popoli del Mediterraneo. Amnesty International ricorda Masa Amini a due anni dalla sua uccisione da parte della Polizia Morale iraniana. Buonasera a tutti e a tutti, benvenuti al quotidiano TLS giornale di Tele Liguria Sud per l'occasione, quello di venerdì 13 settembre 2024. Giovanni Toti ha trovato l'accordo con la procura per patteggiare due anni e un mese. Vediamo il servizio. Colpo di scena nell'inchiesta per corruzione che ha sconvolto la Liguria. Giovanni Toti ha trovato l'accordo con la procura per patteggiare due anni e un mese di reclusione. Adesso la decisione spetterà al GUP che dovrà fissare un'udienza. La pena che Toti patteggia con la procura verrà sostituita con lavori socialmente utili per 1.500 ore. Nell'accordo tra il PM e l'avvocato Stefano Savi, prevista anche l'interdizione temporanea dai pubblici uffici e l'incapacità di contrattare con le pubbliche amministrazioni per la durata della pena e la confisca di 84.100 euro. I reatti patteggiati sono corruzione impropria e finanziamento illecito. Come tutte le transazioni suscitano sentimenti opposti, da un lato l'amarezza di non proseguire fino in fondo le nostre ragioni di innocenza, dall'altro il sollievo di vederne e riconoscerne una buona parte è il commento di Giovanni Toti. Resta quel reato di contesto definito corruzione impropria, legato non ad atti ma ad atteggiamenti, un'accusa difficile da provare per la sua evanescenza ma altrettanto difficile da smontare per le stesse ragioni, prosegue l'ex presidente della Regione. Patteggiamento concordato con la Procura anche per l'ex presidente dell'autorità portuale di Genova, Paolo Emilio Signorini. I suoi legali, Mario ed Enrico Scopesi, hanno concordato con la Procura una pena di 3 anni e 5 mesi e una confisca di poco più di 100.000 euro, oltre all'interdizione temporanea dei pubblici uffici. Anche in questo caso sarà il giudice per l'udienza preliminare ad accogliere la richiesta. Oggi, festività di San Venerio, nella chiesa parrocchiale di San Lorenzo a Porto Venere, si sono tenute le celebrazioni in onore del Santo, preseduto da Sua Eccellenza il Vescovo Luigi Ernesto Palletti. Vediamo il servizio di Don Paolo Cabano. Si sono concluse questa mattina con la celebrazione della Santa Messa nella chiesa parrocchiale di San Lorenzo a Porto Venere, le celebrazioni in onore di San Venerio iniziate lunedì scorso. La Santa Messa di questa mattina è stata celebrata nella chiesa parrocchiale di San Lorenzo a Porto Venere in quanto le avverse condizioni meteo del mare non hanno consentito la prodo all'isola del Tino, dove era programmata la Santa Messa, sempre seduta dal nostro Vescovo, nel piazzale della Vela. E' saltata anche per lo stesso motivo la tradizionale benedizione dei natanti che il Vescovo impartiva dall'isola del Tino. La Santa Messa è stata celebrata alla presenza delle autorità civili e militari della provincia, ma sentiamo un brano dell'omelia del nostro Vescovo. E qua Dio soffia in un vento leggero e si manifesta al profeta. Questo per dire quanto l'esperienza dell'eremita sia veramente importante, perché un Dio che si manifesta nel vento impetuoso potrebbe anche essere un Dio manifestato a tutti, ovviamente se viene accolto. Un Dio che si manifesta nel terremoto potrebbe terrorizzare tutti, si manifesta nel fuoco ancora di più, ma un Dio che si manifesta in un vento leggero è percepibile solo dentro un silenzio profondo, solo dentro un atteggiamento di apertura del cuore particolare. E quindi abbiamo di fronte la figura dell'eremita, ma abbiamo anche di fronte la figura del discepolo del Signore Gesù. Perché in fondo quel vento leggero lo possiamo anche leggere nel passo evangelo. Maria è seduta ai piedi di Gesù, li ascolta, ascolta quella parola serena che viene comunicata. Dall'altra parte c'è il frastuono di Marta. Marta è un po' il vento, è un po' il fuoco, è un po' il terremoto in quella casa, e lo manifesta. Dì a mia sorella che si sveglie, che si tolga da lì, che c'è roba da fare in casa. E Gesù gli dice, Maria ha scelto la parte migliore. Ecco, l'eremita non è lo sfaccendato che non fa le cose che deve fare, ma sa mettersi ai piedi di Dio in un ascolto diverso. Perché il Dio che si rivela è un Dio che si rivela in un vento leggero. Si rivela nelle pieghe della nostra vita. Non è un Dio coreografico, esterno. L'eremita lo sa e lo ha cercato nel silenzio. Lo ha fatto perché potesse essere segno, intercessione per noi, e perché noi, rimanendo nel mondo, non ci lasciamo però travolgere da quelle cose del mondo che sono eclatanti, ma che non portano la presenza di Dio. E sappiamo invece leggerlo in quelle cose piccole che sono ricolme della sua presenza. Perché il Signore stesso dirà, qualunque cosa avete fatto ai fratelli miei più piccoli, l'avete fatta a me. E con l'accogliamo così, perché San Venerio sia veramente nostro intercessore e nostro maestro. Pronto soccorso al collasso, è quanto dichiara il segretario generale della CGL Spezzina, Luca Comiti, che continua. Ieri alle 20 il pronto soccorso della Spezia era bloccato, circa 35 persone in attesa e non entravano più i codici gialli e verdi, solo rossi. Siamo di fronte ad una situazione di autentico collasso, nonostante la ASL 5 ogni volta s'affanni a spiegare che sono solo episodi temporanei. Una situazione causata da una struttura piccola ed obsoleta, da carenza cronaca di personale e da una sanità territoriale e da un'assistenza domiciliare che non funzionano. In questo modo, i pronto soccorso diventano gli unici terminali per i cittadini. Bisogna invertire la rotta, continua Comiti, servono un piano di assunzioni straordinarie ed il potenziamento delle strutture sanitarie sul territorio a partire dalle case della salute che senza personale rimangono scatole vuote. Sono stati stanziati dalla Regione Liguria sul bilancio del programma di sviluppo rurale 2014-2022 oltre 5 milioni di euro per investimenti nelle aziende agricole e per l'acquisto di macchinari e attrezzature comprese le trattrici e di frantoi da parte delle aziende agricole. Le domande di partecipazione al bando vanno presentate sul portale Sian gestito dall'Agenzia per le erogazioni in agricoltura. L'obiettivo di questo stanziamento è quello di sostenere gli investimenti aziendali legati agli acquisti di attrezzature aziendali garantendo la liquidazione del contributo in tempi rapidi. I lavori di consolidamento del ponte di Ceparana avranno una rimodulazione temporale e la richiesta di un ripensamento sul cronoprogramma dei lavori era emersa nell'incontro fra i sindaci dei comuni di Calice al Cornoviglio di Bolano, Follo e Vezzano Ligure e i rappresentanti del mondo imprenditoriale che primi d'agosto si richiedevano un incontro a Regione ed Anas. A seguito del dialogo tra i rappresentanti delle imprese Regione Liguria ed Anas è stato concordato che i lavori di consolidamento del ponte di Ceparana slitteranno di un anno e saranno realizzati nella seconda metà del 2025 quando dovrebbero già essere realizzati la rotatoria di Bottagna il nuovo ponte fra Ceparana e Santo Stefano e dovrebbe essere aperto il casello autostradale a tutti i metodi di pagamento. Lunedì 16 settembre prossimo saranno due anni passati dall'uccisione di Masa Amini da parte della polizia morale iraniana per ricordare Masa Amini e sostenere la lotta di liberazione delle donne iraniane la sezione spezzina di Amnesty International organizza un evento Maria Torre ha intervistato la vicepresidente e le immagini sono di Raffaele Maulella vediamo sono due anni dalla morte di Masa Amini la ragazza iraniana uccisa dalla polizia iraniana cosa farà Amnesty International per questo evento? la campagna di Amnesty è una campagna internazionale e quindi ci muoveremo in tutto il mondo per lei e nello specifico alla Spezza abbiamo deciso di organizzare un evento per commemorare la sua uccisione dopo l'arresto avvenuto il 13 settembre del 2022 per mano della polizia morale faremo un evento sulla Via dell'Amore a Rio Maggiore perché crediamo di dover restituire a lei e a tutte le donne iraniane la bellezza che meritano e quindi abbiamo scelto un posto che secondo noi è molto bello domenica 15 settembre alle 18.30 ci incontreremo proprio all'ingresso della Via dell'Amore a Rio Maggiore e commemoreremo con un comunicato nostro la morte di Masa Amini e Cecilia Lavatore che è una scrittrice, attrice, docente romana accompagnerà questo evento raccontando proprio con pezzi suoi monologhi suoi quanto è accaduto in Iran siamo accanto a tutte le donne che stanno protestando in Iran prima che succedesse questo fatto e ora ancora di più e siamo convinti che il loro grido di Donna Vita Libertà meriti di avere una casa di risonanza mondiale non dobbiamo spegnere l'attenzione su quello che è accaduto e quello che continua a succedere lei è diventata un po' il simbolo di questa protesta ma è una delle tante ragazze che hanno visto infrangere tutti i loro sogni lei era una ragazza che studiava voleva continuare a studiare aveva un futuro davanti e a 22 anni la polizia morale ha deciso che per un velo indossato in maniera sbagliata questa cosa dovesse terminare noi pensiamo che sia un'ingiustizia enorme e siccome Amnesty è a difesa dei diritti umani crediamo che sia fondamentale che resti accanto a lei e a tutte le altre donne che ancora adesso sono nelle strade in Iran Dialoghi su adozione e scuola questo è il tema dell'incontro che si è svolto oggi alla Mediateca Sergio Fregoso per noi era presente Maria Torre vediamo il servizio con le immagini di Italo Lunghi si è svolta stamani alla Mediateca Sergio Fregoso un convegno sul tema delle adozioni e la scuola un tema estremamente interessante che coinvolge tutti gli istituti scolastici della provincia per quanto riguarda l'adozione chiaramente come in tutto il territorio nazionale è diminuita è diminuita sicuramente sia dopo il covid sia perché comunque ci sono state meno domande soprattutto per quanto riguarda l'adozione internazionale mentre invece si è incrementata l'adozione nazionale quindi nel nostro territorio noi siamo andati da 20 famiglie che venivano a chiederci domanda negli anni 2015 adesso siamo praticamente sulle 7-8 famiglie forse 10 ecco se è di mezzata il convegno che facciamo oggi è un convegno proprio per dare valore a quello che sono i percorsi che i bambini fanno soprattutto nel periodo del post-adozione è nel momento di quello che è la scuola infatti noi siamo stati il primo territorio che aveva siglato un protocollo sull'adozione nel 2015 adozione scuola quest'anno visto che sono cambiate le linee guida lo vogliamo riproporre l'obiettivo quindi è quello di parlare alle insegnanti di creare una rete anche con gli insegnanti stesse in modo che comprendano quanto quello che si fa sull'adozione per l'accoglienza dei bambini che portano la loro storia che portano il loro vissuto possono essere degli strumenti e delle potenzialità per poi usare all'interno di quello che è la realtà scolastica su quelli che sono tutti i bambini che vanno a scuola per quale motivo il tema adozione è così importante anche per la scuola? il tema è importante perché è una chiave di apertura verso l'accoglienza di chiunque abbia una storia differente e complessa alle spalle non solo gli alunni e le alunne con un background adottivo ma anche quelli in affido, anche quelli in comunità anche i ragazzi migranti non accompagnati lavorare sull'adozione permette di lavorare sull'accoglienza di qualcuno che ha bisogno di trovare proprio l'accoglienza della società per essere cresciuto e per diventare un cittadino felice un cittadino contento di esserlo come affrontare questo grande problema e opportunità? sì, sicuramente va vista prima di tutto come un'opportunità sicuramente può capitare che vi siano delle difficoltà e poi è un momento di riflessione un momento di riflessione perché questo tema può rappresentare un'opportunità di crescita e formazione per l'intero settore scolastico quindi la giornata di oggi in realtà è dedicata ad affrontare questo tema ad ampio spettro per formare il personale della scuola tutto ci sono conclusi i lavori di efficientamento energetico della scuola di nave che hanno visto un investimento complessivo di 565 mila euro finanziato dal bando emanato dal Ministero dell'Interno di concerto con il Ministero dell'Economia confluito nel PNRR vinto dal Comune di Sarzana il plesso di nave è oggi un edificio scolastico dotato di cappotto termico infissi e porte nuove a isolamento termico nuova centrale termica impianto dei pannelli fotovoltaici ampliato sottotetto coinventato inoltre sono state apportate diverse migliorie sia in termini di acustica che di comfort determinate da un nuovo microclima interno prodotto proprio dall'isolamento termico caldo freddo e quindi una sostanziale migliore fruibilità e godibilità della scuola da parte degli alunni presentata al Terminal Crociere di Largo Fiorillo la seconda edizione della Golfo dei Poeti Cup che si svolgerà alla Spezia dal 21 al 29 settembre prossimi la manifestazione velica che quest'anno si presenta con un programma più ricco di eventi è stata organizzata dal Comitato Circoli Velici del Golfo con il supporto dell'Assonautica Provinciale della Marina Militare della sezione Spezzina della Lega Navale Italiana e di altri partners fra cui l'autorità di sistema portuale del Mar Ligure Orientale vediamo il servizio di Elisabetta Toracca un nutrito programma di eventi velici sportivi, culturali ed intrattenimento via terra e via mare animerà il nostro territorio dal 21 al 29 settembre in occasione della seconda edizione della Golfo dei Poeti Cup organizzata dal Comitato dei Circoli Velici del Golfo della Spezia il fulcro della manifestazione 2024 sarà rappresentato come sempre dalle regate che culmineranno con la Golfo dei Poeti Cup quest'anno la competizione mira coinvolgere il maggior numero possibile di imbarcazioni dalle Cinque Terre alle Apuane numerosi gli appuntamenti collaterali a sancire lo stretto legame tra la città e il suo mare presentati al Terminal Crociere di Largo Fiorillo insieme alla squadra di lavoro dall'organizzatore della manifestazione Sì, abbiamo cercato di coinvolgere tante attività sportive oltre alla vela che rimane protagonista indiscussa di questa manifestazione la Golfo dei Poeti Cup l'evento clou che ci sarà domenica 29 per preparazione a questa attività sono previste altre due regate le due regate principali sono quella organizzata dal Circolo Velico della Spezia il Trofeo Fiorillo regata più antica che viene disputata nel nostro golfo e il nuovo trofeo che va a proseguire la tradizione del Trofeo Mariperman il primo trofeo Marina Nord a collaterale di tutte queste manifestazioni ci saranno una cicloturistica delle Cinque Terre evento che porterà circa 400 ciclisti nelle strade delle Cinque Terre un trial delle Cinque Terre con una gara nazionale FIDAL 10, 18 e 31 km anche questa andrà verso le Cinque Terre un raduno nazionale di auto d'epoca che andranno a visitare oltre che la nostra città l'Erici, Portovenere e le Cinque Terre quindi abbiamo cercato di coinvolgere varie attività sportive eventi culturali la visita di Nave Italia e tante altre cose il 21 settembre taglio del nastro al villaggio a Calata Paita allestito per l'evento dove si terranno interessanti approfondimenti culturali e il concerto della fanfara della Marina Militare e alla Marina Militare si riconosce il merito del prezioso supporto dato a tutta l'iniziativa questa entrerà nel vivo con il primo trofeo Marina Nord Sì, la Marina è a fianco della Golfo dei Poeticap questa seconda edizione supporteremo in tante iniziative e il nostro impegno è quello di rafforzare il legame storico e molto forte tra la Marina Militare e la città di Respezio e questo territorio e anche quello di rafforzare la naturale collaborazione che c'è tra chi ama il mare e chi ha scelto il mare come professione di vita quindi noi della Marina Militare quest'anno raccogliamo l'eredità del trofeo Mariperman e abbiamo ridenominato il primo trofeo Marina Nord che ha già avuto notevole adesioni una regata velica dedicata alla classe ORC alle barche da crociera e riteniamo che questa manifestazione oggi alla seconda edizione abbia la possibilità di crescere ulteriormente nei anni e auspichiamo quindi un successo complessivo per questo importante evento cittadino Inaugurata la nuova edizione di Mitiliade Lerici città mediterranea l'evento biennale dedicato ai muscoli al mar mediterraneo organizzato dal comune di Lerici per tre giorni fino a domenica prossima 15 settembre si alterneranno show cooking, talk e spettacoli musicali ma vediamo il servizio Inaugurata questo pomeriggio la nuova edizione di Mitiliade Lerici città mediterranea l'evento biennale dedicato ai muscoli e al mar mediterraneo organizzato dal comune di Lerici in collaborazione con Italian Blue Ground e il giornalista Vittorio Castellani meglio conosciuto come Chef Kumale per tre giorni fino a domenica 15 settembre si alterneranno show cooking talk spettacoli musicali aree e mercatini tematici laboratori per bambini e tanti eventi per quella che è una vera e propria esperienza sensoriale unica dove le tradizioni gastronomiche locali si intrecciano con quelle dei popoli del Mediterraneo proprio per celebrare questo connubio Sicilia e Tunisia saranno rispettivamente regione e paese ospiti dell'edizione 2024 come si diceva l'inaugurazione ufficiale si è tenuta questo pomeriggio alla Rotonda Vassallo alla presenza del Ministro del Turismo Daniela Santanchè il reparto di Otorino la Ringoiatria dell'ospedale di Sant'Andrea della Spezia aderisce lunedì prossimo 16 settembre alla dodicesima edizione della Make Sense Campaign la campagna europea di sensibilizzazione alla diagnosi precoce dei tumori testa-collo promossa in Italia dall'Associazione Italiana di Oncologia Cervicocefalica sentiamo l'intervista raccolta da Italo Lunghi La struttura complessa di Otorino la Ringoiatria sta predisponendo un momento di screening per la prevenzione Noi abbiamo sempre aderito a tutte le attività di questo tipo e organizzate dalle nostre società scientifiche sia per patologie di grande impatto sociale come può essere le patologie dell'udito sia per patologie oncologiche come in questo caso che hanno una rilevanza e un'incidenza più limitata circa il 3% dei tumori maligni 1 a 50 degli uomini nel corso della vita va incontro una neoplasia testa-collo e 1 a 200 delle donne e la sensibilizzazione della popolazione verso queste patologie verso i primi sintomi di queste patologie è molto molto importante perché se i tumori sono rilevati negli stadi iniziali la sopravvivenza è molto superiore circa il 90% rispetto ai casi che vengono diagnosticati in fase più tardiva 40-50% Ecco a chi è destinata questa iniziativa Questa iniziativa è riservata a tutte le persone che sono asintomatiche in questa occasione ma vuole sensibilizzarli in particolare questa volta sulla comparsa di tumefazioni del collo o tumefazioni della testa-collo in particolare possono essere tumefazioni primitive o linfonodali segno di neoplasie del distretto testa-collo ma tutti i pazienti che hanno da più di 20 giorni un dolore alla lingua che hanno una difficoltà alla deglutizione che hanno raucedine che hanno tosse o che hanno ostruzione nasale o una tumefazione del collo devono comunque entrare nell'ottica di fare delle indagini diagnostiche per escludere che questi possano essere segni di neoplasia dove e quando questa possibilità lunedì prossimo 16 settembre dalle 14 alle 18 negli ambulatori della struttura complessa di Otorino al padiglione 5 piano terra dell'ospedale Sant'Andrea non è necessario prenotare non è necessario prenotare una scelta che noi abbiamo fatto proprio per lasciare anche a chi decidesse all'ultimo minuto di venire di potersi presentare nella sala multimediale di Tele Liguria Sud si terrà domani 14 settembre ore 10 un incontro dal titolo Giancarlo Fusco il giornalista affabulatore vediamo il servizio di Italo Lunghi domattina presso la nostra sala multimediale un incontro davvero bello si ricorda un personaggio spezzino Giancarlo Fusco giornalista ma una persona che ha davvero una storia ecco chi era per ricordarlo ai nostri telespettatori allora per ricordare ai nostri telespettatori intanto bisogna ricordare che c'è una scalinata intitolata a lui e che Giancarlo Fusco è nato a Spezia ed era molto legata a questa città in tutta la sua attività come giornalista e come scrittore ha sempre ricordato Spezia ci sono moltissimi articoli dedicati a Spezia aveva dei grandi amici come Gino Patroni altro giornalista scrittore preumorista l'avvocato Alinghieri e tanti altri per cui è una delle figure secondo me più interessanti del secondo dopoguerra non solo Spezzino ma a livello nazionale i suoi libri bellissimi molto interessanti molto avvincenti da Duria Marsiglia la guerra di Albania quando l'Italia tollerava e tanti altri Fusco non solo giornalista e scrittore ma anche un ruolo importante nel cinema italiano sì perché lui fu fece dei film per esempio fece Capricci con Carmelo Bene e fece anche vogliamo i Coloneli che è un film molto divertente dove lui faceva la parte di questo generale colpista che si chiama generale Furas un sardo è stato uno dei protagonisti anche della radio e poi della televisione e soprattutto è stato un grande giornalista di costume che ha appunto raccontato l'Italia del dopoguerra e gli italiani del dopoguerra ecco un incontro che è stato organizzato dall'ordine dei giornalisti della Liguria insieme alla fondazione dell'ordine dei giornalisti della Toscana però è un incontro che è aperto a tutta la città domattina alle 10 presso la nostra sala multimediale l'invito a venire tra l'altro in quella circostanza noi consegneremo la tessera ad onore dell'ordine nella memoria naturalmente a Giancarlo Fusco dell'ordine dei giornalisti per cui non fu mai iscritto all'ordine dei giornalisti quindi è aperto al pubblico e credo che gli spezzini inteseranno molto ritrovare un personaggio di quella dimensione e apriamo la pagina sportiva cominciando con il golf il Lions Club Roverano distretto 108 domenica prossima 15 settembre dalle ore 9 organizza il quarto trofeo di golf presso il Golf Club Marigola la gara si svolgerà in un'unica giornata e sarà dedicata alla raccolta fondi che il Lions Club Roverano devolverà all'istituto Giannina Gaslini per l'oncologia pediatrica e passiamo al calcio con quasi 900 tifosi al seguito lo spezia si appresta ad affrontare domani ore 15 allo stadio Zini di Cremona la Cremonese in un match che si preannuncia particolarmente impegnativo recuperato Rezza e con Elia in via di guarigione uno dei grandi assenti sarà purtroppo invece il talento Kudà che ieri sera era ospite nei nostri studi sentiamo un estratto da voglia di spezia la prima domanda è tanti ti chiedono quando se sei pronto per giocare non ancora purtroppo però stiamo lavorando al meglio per ritrovare la condizione ottimale per poi ristabilire una forma ottimale per poi non uscire più ecco quindi diciamo i tempi quanto la scaramanzia meglio non dirlo mai perché magari si sbagliano con le date però dovrebbe mancare poco siamo ripartiti possiamo dire come avevamo finito l'anno scorso sì sicuramente c'era già una base dall'anno scorso e quindi stiamo continuando il lavoro dell'anno scorso speriamo di continuare così e l'obiettivo penso che debba essere la continuità perché continuare così sarebbe un bel passo durante il campionato che è un campionato difficile pieno di insidie quindi penso che la continuità sia la cosa più fondamentale avere avuto il mister da subito penso sia la cosa migliore per una squadra che l'anno scorso arrivavamo da una retrocessione quindi magari ci portavamo delle scorie adesso abbiamo il mister dall'anno scorso quindi abbiamo già una base e penso che continuare su questa base ci porterà spero grandi soddisfazioni cosa è cambiato cioè sembra più tanta voglia di arrivare poi alla fine a questo risultato sì sicuramente c'era anche l'anno scorso questa voglia adesso secondo me siamo partiti tutti da zero quindi non c'erano scorie non c'era niente c'era soltanto un bel gruppo compatto quindi siamo partiti bene e sta andando bene quindi penso sia questa la chiave la compattezza che abbiamo da fine dell'anno scorso e chiudiamo la pagina sportiva con l'occhi su pista c'è stata in centro a Sarzana quella festa abituale di questi tempi con cui l'occhi Sarzana apre la nuova stagione sportiva e si apre al suo pubblico nel contesto coinvolto anche il pattinaggio a rotelle ma per l'occasione l'attenzione era concentrata soprattutto sull'occhi su pista e in particolare su quella squadra rossonera che sarà ancora una volta impegnata nel massimo campionato nazionale di questo sport giocherà pure sul fronte europeo e probabilmente pure in Coppa Italia quello dipende da come andrà il girone d'andata del campionato ma seguiamo il servizio con tutti gli ingredienti dell'occasione la annuale presentazione in pieno centro in piazza De Andrè come al solito dell'hockey Sarzana con vista alla nuova stagione sportiva quindi folto pubblico a dispetto delle incerte condizioni del tempo intervento del primo cittadino anche se superstar immancabilmente era il presidente Maurizio Corona e poi presentazione a tutto andare di tutte le squadre rossonere dalla prima squadra fino al mine hockey passando per le varie andar sicuramente è stata una bella serata divertente e con passione ochelistica rossonera però spero che rimarranno più soddisfatti poi per la stagione che dovremo affrontare al centro dei riflettori comunque la compagine che una volta di più partirà ai nastri di partenza nel campionato nazionale di serie A1 il prossimo 12 ottobre poi un po' più in là all'inizio di novembre Capitan Borsi e i compagni saranno impegnati in Francia in quel girone a tre che deciderà la partecipazione o meno alla prossima Champions League avversari nel contesto i portoghesi del Tormar e i francesi del Dinan Quevert per noi sarà una stagione nuova perché comunque abbiamo cambiato l'allenatore stiamo iniziando questa preparazione a conoscerlo a conoscere appunto quello che vuole e sarà una stagione difficile perché comunque il campionato è molto equilibrato e proveremo a dare il meglio in tutto proveremo come ogni anno a migliorarci per quanto possibile e niente per quanto riguarda invece la Champions League sarà un obiettivo difficile e abbiamo il concentramento a inizio novembre per il ponte durante il ponte vediamo cosa esce fuori andiamo in Francia per in un concentramento a tre dove proviamo a dire la nostra e questo era il nostro ultimo servizio non rimangono che le previsioni del tempo ovviamente a cura di Limet centro meteo per la Liguria grazie per averci seguito l'augurio di un felice proseguimento di serata naturalmente su Tele Liguria Sud buon weekend e arrivederci una buona serata a tutti da Paolo Borino vediamo le previsioni per sabato 14 settembre in Liguria ancora correnti fredde settentrionali con temperature inferiori alla media ma tempo nel complesso asciutto in gran parte soleggiato in Liguria ma andiamo nel dettaglio sulle previsioni per domani sabato 14 settembre avremo un po' di nubi sparse specie nelle aree interne del settore centro orientale ma senza fenomeni sul resto della regione cielo sereno a parte qualche addensamento locale sparso senza conseguenze 20 forti da nord tra la notte e la mattinata in lenta attenuazione nel pomeriggio mare stirato sotto costa molto mosso a largo temperature in ulteriore lieve calo nei valori minimi massime in lieve rialzo lungo le coste in costa prevediamo millimetra 13 e 16 gradi massime tra 21 e 24 gradi nell'interno millimetra 0 e 9 gradi massime tra 15 e 20 gradi se volete ulteriori informazioni andate sul sito www.centometroligure.com e non dimenticate di scaricare la nostra app di Limet www.centometroligure.com Grazie a tutti.